Ok, allora ci siamo, buongiorno a tutti, grazie per essere qua presente in questa prima conferenza, diciamo conferenza d'apertura per la 39esima edizione del Torino Film Festival, edizione che ci vede finalmente tornati in presenza dopo l'edizione dell'anno scorso che come ricorderete è stata totalmente online, quindi insomma felicissimi di essere ancora qua anche se mascherinati anche quest'anno. Allora, ieri sera c'è stata la serata d'apertura, proiezione d'apertura, è stata una grande proiezione, permettetemi prima di cominciare di ringraziare ovviamente la madrina del festival Emanuella Fanelli che si esibite in un ottimo monologo e il direttore Stefano Francia Dicelle, ovviamente poi tutta l'organizzazione del Torino Film Festival che avremo modo di ringraziare largamente in queste conferenze stampa. La proiezione è stata del film Sing 2 di Gar Jennings che è presente con noi qua quest'oggi, film assolutamente eccezionale che è stata l'apertura perfetta per questa edizione del festival e noi abbiamo la fortuna di avere con noi appunto il regista Gar Jennings che come immagino molti di voi sapranno arriva da una lunga esperienza cinematografica, ha diretto film come l'adorabile Son of Rambo, ha fatto una delle riduzioni più incredibili visto che è riuscito ad adattare per il grande schermo la guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams e poi il grande passaggio al cinema d'animazione nel 2016 ha realizzato Sing che è stato non solo uno dei più grandi successi del cinema d'animazione ma uno dei più grandi successi commerciali del 2016. A distanza di cinque anni arriva Sing 2 e giustamente come tutti i grandi seguiti che si rispettano porta la sticella ancora più in alto. è un film più grande, più grosso, più pazzo, più divertente da un certo punto di vista e che ovviamente introduce anche dei nuovi personaggi. Quindi io ringraziando Gar Jennings per la serata ottima di ieri sera partirei proprio da questo aspetto. Io volevo fare una domanda personale a Gar Jennings perché so, immagino che tutti i genitori di tutti i bambini che andranno a vedere Sing 2 saranno costretti a ascoltare la colonna sonora di questo film per i prossimi sei o sette anni all'incirca e quindi io volevo chiedere se A si sente in colpa e se B, non so se lui ha dei figli, ha mai chiesto ai figli di abbassare il volume della musica perché Sing 2 sembra essere un film estremamente liberatorio da questo punto di vista. È un film che non ha paura mai di di alzare il volume e di raggiungere appunto un altro livello di divertimento e di pazzia. Hello, can you hear me? Hello, 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 hello. There we go. Hi. Yes, I do have children. I have four sons and they normally, they're often telling me to turn the music down in the house I like it loud. I grew up with a mother who played everything very loud, so she was into rock music and things, so I'm used to that level. But yes, you're right, I think these soundtracks, the music does tend to play on way past just watching the movie, that children discover new artists and new music through movies like this. Buongiorno a tutti, sì, io ho dei figli, ho quattro figli per la precisione e spesso sono loro che chiedono a me di abbassare il volume della musica perché a me invece piace ascoltare la musica a un volume molto alto, rettaggio di mia madre che ascoltava qualunque genere ma in particolare il rock ha un volume estremamente alto e a me piace ascoltarla esattamente allo stesso volume. Ed è vero che la colonna salona di questo film permetterà a giovani spettatori di scoprire dei brani e degli artisti che forse non conoscono e di apprezzarli. Anna Ribotta che traduce per noi al Torino Film Festival e che ieri sera era presente in sala. Io direi di passare subito la domanda, la parola a chi è presente in sala con noi quest'oggi, se avete delle domande altrimenti noi continuiamo a chiacchierare. C'è qualcuno che vuole fare delle domande a Carl Jennings per Sing2? Perfetto allora continuiamo noi se nel frattempo poi potete alzare la mano e fare le domande che desiderate. Tornando invece al film Sing2 ci sono anche una serie di riferimenti diciamo più che espliciti ad altri prodotti culturali. Il film inizia con una citazione che ha a che fare con il mondo della pazzia che citavamo prima inizia con un numero musicale ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Ci sono altre sequenze nel film che citano altri film e come vi spiegavo prima Gar Jennings arriva da una lunga esperienza di cinema live action prima di dedicarsi al cinema d'animazione come arriva anche da una lunga serie di videoclip per molti artisti. Ieri sono stati citati i Coldplay e i Rem, citiamo anche i Pulp, citiamo i Blur, insomma sicuramente una grandissima conoscenza del linguaggio musicale cinematografico. La domanda che vorrei fare quindi a Gar Jennings è come come si passa diciamo da il video musicale al cinema live action e poi trasportare diciamo insieme queste due cose nel cinema d'animazione. Quindi che tipo di cambiamento e di linguaggio ha dovuto affrontare per questo per questo film? Oh, thank you for that question. There is no simple answer. All I've been doing since I was a kid, I've always loved music and I've always loved films and I've always loved how they work together. It's just something I've always, always loved. And whether it's the soundtrack to like with the moment E.T. takes off on the bicycle and it's just that my favorite moments in cinema are usually also musical moments. And making music videos I learned very quickly to find ideas that would not just be great to watch but would work perfectly with the music that would, that you couldn't separate them. And that was the best, those are the best things I did in videos. And so sing is really like all of those passions that I've had and interests for, for all my life really I am able to put them all together. And, and whether it, so storytelling and music and just, I don't know what I'm doing, it just feels like something I've always done. Does that make sense? It's not really a, I don't have a formula, I'm just going with my feeling, yeah. I want to say that, innanzitutto, grazie per questa domanda, non esiste una risposta semplice o quantomeno così chiara. Da bambino io amavo la musica tantissimo e amavo i film e ben presto mi sono reso conto che apprezzavo in particolare i momenti in cui queste due tradizioni si fondevano. Per esempio il momento più bello per me è E.T. che parte a bordo della sua bicicletta appunto accompagnato dalla musica e mi sono reso conto a posteriori che i momenti cinematografici per me più toccanti, più entusiasmanti coincidevano con momenti musicali molto forti. E devo dire che quando ho cominciato appunto a realizzare questi videoclip musicali ho cominciato a elaborare delle idee che avevano un impatto visivo molto forte ma che funzionavano solo se accompagnate appunto da brani altrettanto incisivi. E quando è stato il momento appunto di realizzare SING2 devo dire che c'è stata una fusione assolutamente naturale delle mie passioni, dei miei interessi, interessi e passioni che ho coltivato tutta la vita. Per cui per me la narrazione cinematografica è inscindibilmente legata con la narrazione musicale e non so neanch'io spiegare come faccio. Non esiste per me una formula precisa. È qualche cosa che mi viene in modo assolutamente naturale. Perfetto. Ovviamente rimane valido l'invito precedente. Se qualcuno ha delle domande, basta alzare la mano. Al di là diciamo dell'aspetto tecnico del film, a un livello di animazione digitale altissimo e quello che abbiamo detto per quanto riguarda le canzoni, quindi una perfetta commissione tra le immagini e la musica, il film ha comunque una grande portata emotiva. Lo dico da diciamo quarantenne, anche un po' di più, il film non solo fa piangere i bambini che erano presi ieri in sala, ma è veramente molto emozionante. È un film che ha una bellissima storia, sviluppa di più i personaggi del primo e porta appunto non solo l'astriccella della pazzia più in alto, ma anche quello emotivo dal mio punto di vista. Quindi volevo chiedere a Gart anche come si è lavorato per l'inserimento dei nuovi personaggi e soprattutto sulla storia, che apre degli scenari anche piuttosto inaspettati rispetto a quello che era lecito aspettarsi dopo aver visto Sing Uno. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Just trying to find stories that resonate and feel like they fit. Again, it's like the music and the picture. You can't separate them. And each character can... Sorry, this is a long one for you. Each character can have a different kind of use of music. One character, the music can be about empowering them and making them feel strong when they need it. Others can be about grief and healing. And, you know, it sounds kind of broad when I put it like this. Hopefully, it doesn't feel like that when you watch it. But each character occupies a different musical emotion, I suppose. So it was about finding those and not being afraid to go there, go all the way with it, yeah. Devo dire che io sono sempre molto felici quando provo delle emozioni al cinema perché per me è proprio uno dei dati caratteristici, l'essenza stessa dei film e del cinema è proprio quella di provare emozioni. Emozioni che non devono essere necessariamente triste, ma per me è importante provare qualche cosa, al di là di quanto una storia, un film possa colpirmi. Ed è vero che oggi, grazie al computer, è possibile fare qualunque cosa e portare veramente lo stato dell'arte a un livello molto alto. Però è anche vero che le emozioni vengono date dalla sceneggiatura e dallo sviluppo dei personaggi. E questo discorso vale a maggior ragione quando il ruolo della musica è così importante come lo è in un film come questo. Per cui per me l'importante è sempre quello di cercare delle storie, di sviluppare delle storie che risuonino con l'universo emotivo di ciascuno di noi e che permettano delle emozioni. E il mio modo di sviluppare queste storie è quello di provare a far sì che ogni personaggio incarni un'emozione diversa. E in questo caso, nel caso di Sing2, è stato proprio un uso diverso della musica. Cioè l'emozione viene filtrata e passa attraverso la musica. Per cui per qualcuno la musica è qualche cosa che lo sprona a sviluppare un'autonomia, un'indipendenza e a sentirsi più forte. Per altri personaggi la musica ha a che fare con l'evocazione di un dolore passato. Insomma, detto così sembra molto alto, ma in realtà poi una volta che lo si vede in immagini è molto più chiaro. Ogni personaggio incarna le emozioni diverse che la musica è in grado di suscitare in noi. Tu per fatto come Anna Ripotta riesca a segnarsi tutto questo in tempo reale. Continuerei chiedendo, visto che Sing2 come Sing1 ha un cast eccezionale, anche in questo caso ovviamente però si raddoppia, nel senso che crescono i nomi. Come sapete il film d'animazione in America, in originali, i personaggi sono anche ricalcati fisicamente sulle voci che poi hanno. Noi abbiamo insomma un grande scuolo di doppiaggio, però è un tema differente. Io vorrei che, visto che il film ha nel cast Matthew McConaughey, come sapete Scarlett Johansson, ma ci sono anche Peter Serafinovitz, che immagino sia il grande amico di Garth, Eric Andre, Taran Egerton, insomma una serie di nomi incredibili. Vorrei sapere come Garth gestisce Nick Kroll, un altro tipo comico straordinario in una parte eccezionale, vorrei sapere come gestisce l'espressività e le voci di tutti questi attori, trasformandoli poi nei personaggi di Sing, quindi nei personaggi di animazione. Come lavora dal punto di vista attoriale? È molto spazio e messo, e non ne recordo i personaggi di insieme, perché sono sempre in diverse parti del mondo, a diverse volte. È come questo, e è come questo per 4 ore, e io sarò le altre parti, e gli personaggi di fare il suo parto, e noi stiamo cercando di trovare il ritmo e il ritmo, e il ritmo di sentire. e io penso che Matthew McConaughey, che è il protagonista, e io ho registrato per un periodo di 3 anni, quindi non ogni... Quindi abbiamo il ritmo qui, e poi altri 3 mesi dopo qui, e poi abbiamo gradualmente il ritmo di insieme. È un po' di dialogo, e l'editor ha fatto un buon lavoro di sentire che tutto ciò che è stato fatto in una scena, ma normalmente una scena potrebbe essere registrato per 2 anni in 20 altri paesi. Quindi è un messo, ma la registrazione è tutto per ottenere l'energia e l'emozione, e è sorprendentemente exaustante. Tutti stanno spettando all'inizio, sì. Si può dire che è un processo estremamente giocoso e pasticciato, nel senso che naturalmente la registrazione non avviene in un momento contestuale che coinvolge tutti gli attori, ma può prendere un arco temporale estremamente lungo, anche 4 anni, perché il punto per noi è riuscire a trovare un ritmo giusto che rispecchia appunto questo universo emotivo, che è quello dato dai personaggi del film. E nel caso di Matthew McConaughey, che nella versione originale dà la voce appunto a Buster Moon, lo abbiamo registrato per 3 anni consecutivi, e in vari momenti e poi via via abbiamo cercato di costruire il film in base appunto a queste registrazioni che facevamo insieme, per cui registravamo lui e nel frattempo io facevo tutti gli altri personaggi, per cui può sembrare paradossale, ma una scena può davvero richiedere una registrazione che dura su, si spalma su due anni, avviene in luoghi completamente diversi, molto pasticciato come procedimento, ma che è in grado di sprigionare tantissime energie e tantissime emozioni e rende tutti esausti. Sudiamo sette camicie ogni volta. Questo è evidente, ma il risultato poi è eccezionale. Datt, anche presta la tua voce a un avventurato del film, sappiate, però c'è una grande novità, c'è un personaggio nuovo che è Calloway, è il leone Calloway, che nel finale si esibisce in un numero musicale da pelle d'oca. E ieri, durante la presentazione del film, Gar Jennings ci ha raccontato un piccolo episodio che ha a che fare con Bono, la voce di Bono, che, citando proprio Gar Jennings, ha in qualche modo salvato il film e salva anche la produzione di Buster Moon. wrote a song for us and it began when we first talked about the character and I promise you he just said at the end of the conversation we could do a song about this and I said oh yeah that'd be great but I didn't know he would actually do it but no he just wrote this beautiful song that was exactly what the character would experience and more importantly was the whole end of the movie I was being given the last three minutes of the film and that doesn't happen that never happens and certainly I didn't expect it from Bono who has plenty of things to do but here it was this beautiful song from U2 I love it as a song I love it as it serves the movie and as a gift it is the greatest thing you could be given yeah did that answer your question yeah okay Sì devo dire che come ho raccontato ieri sera già il fatto che Bono abbia deciso di partecipare al nostro progetto è stato di per sé un miracolo perché appunto riuscire ad avere Bono che presta la voce a uno dei personaggi principali del film è stato incredibile e in più ha scritto questa canzone per noi e davvero è stata un'idea fantastica perché è una canzone che naturalmente richiama l'esperienza e il vissuto del suo personaggio di questo Clay Calloway e alla fine ci ha scritto questa canzone incredibile straordinaria che narra appunto si riallaccia al vissuto di Calloway e quindi ci ha consentito non solo ci ha fatto un dono straordinario ma ci ha consentito anche di avere la fine del film che ci stava mancando perché è una canzone che dura tre minuti e conclude il film ed è davvero qualche cosa che non è mai successo prima perché vi potete immaginare un artista come Bono così sempre impegnato è riuscito appunto a partecipare il film a regalarci una canzone a farci un dono e a permettere la conclusione del film stesso perfetto allora abbiamo delle domande da parte della stampa che ci segue su Zoom Caterina arriva il microfono una curiosità mia io intanto mi sono molto divertita a vedere il film devo dire che mi ricollego a quello che si diceva prima del ritornare bambini e sono ritornata veramente bambina per due ore quindi ti ringrazio molto si parlava di sviluppo dei personaggi ne abbiamo già in parte parlato però quanto devono essere divertenti anche oltre che faticose le riunioni di sceneggiatura il brainstorming e soprattutto come si scelgono proprio le attribuzioni dei caratteri dei personaggi come si decide che la manager è un cane come si decide che il grande capo l'impresario è un koala insomma ecco oltre al discorso che abbiamo fatto appunto sul valore della musica attribuita ai personaggi Oh, sono felice che ti piacciono questo è ottimo davvero i caratteri sono molto semplici e non città sono caratteristiche di un personaggio di un personaggio e magari si fanno perfettamente e magari si fanno quasi come l'opposizione ma Ma il motivo, per esempio, che Buster Moon è così piccolo, è perché se fosse molto, molto, molto grande, sarebbe piacere che tutto sarebbe molto più facile per lui. Mi piace che tutto, anche se siano a sua desk, è difficile. Tutti è più grande che questo ragazzo che ha tutti i sogni. E anche per il personale più sensibile, è uno dei più grandi. Ancora, and sometimes you take what people know about an animal and sometimes you just take what would be the most, what just feels right. I don't really know what I'm doing, it's sort of making stuff up, but it just, they just feel right. The most obvious one, this is a long one again, is the wolf. It had to be a wolf, it was like it has to be a wolf, like the guy who runs a casino and a hotel, that's got to be a wolf. So, yes, very often, and it's fun to do that, it's lovely to play with those caricatures. Se innanzitutto mi fa piacere che le sia piaciuto il film, il processo di elaborazione dei personaggi è molto semplice, non esistono dei criteri scientifici e i personaggi sono a volte delle caricature dei tratti della personalità degli esseri umani e a volte rappresentano quello che noi associamo normalmente con l'immagine di un determinato animale, quindi possono aderire a quest'immagine o funzionare in antitesi. Per esempio nel caso di Buster Mooney, il fatto che sia, è un koala certo, ma è un koala piccolissimo. Questo per rendere visivamente molto immediata la difficoltà che lui ha nel realizzare questi sogni, è quello che ha i sogni più grandi, ma è anche quello che ha difficoltà maggiore nel realizzarlo. Quindi il fatto che sia così piccolino, a partire dal suo ufficio, dalla fatica che fa per star seduto alla sua scrivania, dimostra appunto la difficoltà nel realizzare i propri sogni. Quindi i personaggi da un lato incarnano quello che noi sappiamo dei vari animali, i tratti che associamo agli altri animali, e l'altro sono invece i tratti degli esseri umani, quindi della nostra personalità. Il lupo, l'impresario cattivo, tra virgolette, colui che possiede un impero, il casino in questo grandissimo albergo, non poteva che essere un lupo evidentemente per incarnare quella tipologia di personaggio. Ed è bellissimo riuscire a inventarli via via, seguendo queste inclinazioni, queste ispirazioni. Allora, noi siamo arrivati in conclusione alla prima conferenza stampa di questa 39. edizione del Torino Film Festival. Il film è ovviamente SYNC 2, che vi invito ad andare a vedere in sala il prima possibile. Io ringrazio Anna Ribotta per essere stata con noi e aver tradotto le parole di Gar Jennings, direttore, chiedo scusa, regista del film SYNC 2, che è stato molto gentile ad essere qua con noi ospite. Grazie mille per il film e grazie ancora per essere stati con noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.